Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Un giovane di 28 anni ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla via Appia, nel comune di Terracina. Stava viaggiando in moto verso Gaeta per trascorrere del tempo con i suoi genitori e godersi una giornata di relax al mare, ma purtroppo non è mai arrivato a destinazione. L'incidente è avvenuto quando la sua moto si è scontrata frontalmente con un camion frigorifero. Appassionato di musica rock, il giovane era il frontman e chitarrista dei Damn Monkeys Tribute Band, un gruppo che si esibiva in tutta Italia con brani degli Arctic Monkeys. Solo venerdì scorso la band aveva suonato e aveva in programma diversi concerti per i mesi di agosto e settembre a Roma e in altre città italiane. Sebbene fosse originario di Gaeta, viveva da alcuni anni a Roma, nel quartiere Talenti. Il violento impatto non ha lasciato scampo al giovane e i soccorsi, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le cause esatte dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Un testimone ha riferito che la moto potrebbe avere invaso la corsia opposta, rendendo inevitabile la collisione. Non si esclude l'ipotesi di un malore improvviso e per fare ulteriore chiarezza è stata disposta un'autopsia sulla Salma. La vittima è Fabio D'Amato e a nome di tutti esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia.